Ciao a tutti, sono Pierluigi Zanchi. Nell'ambito della coltivazione elementare, una domanda che ricorre sovente è come mai non c'è bisogno di annaffiare. Infatti a Locarno, da 23 anni, nell'ambito della sperimentazione d'orticoltura urbana, non bagniamo. Allora, qui siamo in presenza di un terreno tipico colenale, sul quale verso dell'acqua. Questo è un terreno che contiene poca massa organica e vediamo che dopo un po' l'acqua si ne va. Mentre invece, quando il terreno è particolarmente ricco di sostanza organica, come nell'ambito della coltivazione elementare, guardiamo cosa succede un po' con questo esperimento. Una spugnetta di cellulosa, praticamente segatura, riesce a condividere fino a 11 volte e mezzo il suo peso in acqua. Ecco come mai, anche dopo due o tre mesi di siccità, noi possiamo comunque continuare a coltivare il nostro orto senza nessun problema, ma soprattutto senza la fatica da annaffiare. Vi ringrazio e auguro a tutti voi una buona coltivazione.